Benvenuti ragazzi sul canale di GepinXGen, siamo qui oggi con PES 2016 e siamo nella divisione 9 che è partita subito male perché ho fatto due partite, ho provato a fare a registrare e entrambe, nella prima di tutto mi si è disconnessa, non ho neanche iniziato però e ancora di caricamento, nella seconda mi si è disconnessa a fine primo tempo e mi ha dato due sconfitte per disconnessione, minacciandomi anche di abbassarmi di grado di cortesia come già mi dissero e attenzione ragazzi però che stiamo attaccando, con Levandoschia tiro, mirassolo subito del portiere, faccio il tiro, miracolo di Leali, pallone dentro, ancora dentro palla e viene anticipato all'ultimo secondo, sono qua che prova ad andarsene, ancora, perché? no ragazzi, no ragazzi, no ragazzi, se si difetti di FIFA, ma perché passano la palla in questa maniera, è altro più uso ragazzi, qua viene fermato, grande intervento, prova a fermare nema, tiro l'impallato, è velocissimo, va giù da dentro, Levandoschia, è arrivato il pareggio con Robert Levandoschia, pareggio meritatissimo, uno pari, grande Robert Levandoschia, bellissimo passaggio di Roberto Balco, Levandoschia, fermati a destra, Mattia a destra, per Levandoschia, qui sarà la pallonino, il gol, il gol di Levandoschia, bell gol, 2 a 1, abbiamo ribaltato tutto, palla in profondità sulla faccia, dobbiamo andare subito a chiudere, pallone che rimane lì, attenzione qua, tiro, miracolo di Leali, che salva tutto, da Roberto Baggio, il pallone dentro, e c'è il pareggio, Gervinio, Colaro, ancora dentro, Baggio, per Gervinio, molto bella l'azione, Gervinio, attenzione qua, attenzione qua, Gervinio, si fa anticipare, Mattia adesso, Baggio, e finisce la faccita, due pari, partita combattuta e abbiamo tenuto qua il primo punto in questa decisione, ok ragazzi, siamo tra poco con la seconda partita, ragazzi, eccoci tornati nella seconda partita del giorno, e speriamo di ottenere la prima vittoria, visto che mi servono 7 punti per nole procedere, Gervinio, attenzione, ripetiamo palla con Gervinio, pallone dentro, verso Levandoschi che è velocissimo, Levandoschi, tiro, il miracolo del portiere, subito Levandoschi però, ah perché hai fatto questo intervento, e c'è il ragazzi, ma che intervento ha fatto Garai, beh ragazzi, veramente, cioè, se devo giocare con queste, con queste difensioni, con questi interventi, io non posso farci nulla, ma ancora, perché fanno queste cose finito, ragazzi, in reale sta facendo tutto da solo, il prossimo non è da fare, ancora destro, ancora destro, destro, e il pareggio, è arrivato, il pareggio, con la chi a destro, il pareggio meritatissimo ragazzi, il pareggio meritatissimo, si ricomincia da una situazione di Gervinio, salta tutto, e c'è il 2 a 1, ma non ci posso credere, si fanno saltare come dei birilli, come dei birilli, ma vabbè, ragazzi, dobbiamo recuperare di nuovo, il levandoschi dentro, dentro, adesso, è il pareggio immediato, azione dopo, e due paumi, non vogliamo nulla, guardate, ma chi a destro, Fabazio fermato, si è adormentato pure lì sul pallone, sono ancora l'avversario a terra, è il giocatore a terra, lì non fa tempo, e qui c'è il 3-2, ok ragazzi, un di meno, a terra, il gioco prosegue, questi sono tutti i difetti di pezzi, guardate ragazzi, il mio giocatore a terra, quindi un di meno per difendere, è il gol del 3-2, va bene, ok, va giù, ma perché si stava scattando destro, qua, levandoschi, destro, ancora, destro, se ne va a destra, attenzione, levandoschi, è solo, levandoschi brutto pallo da dietro, brutissimo pallo da dietro, punizione ma dovrebbe se c'è espulsione palo dell'ultimo uomo infatti ragazzi se c'è espulsione vado il primo gol su punizione su pass tre pali e lui è anche in 10 siamo sentiti nuovamente al pareggio grande gol su punizione di dobi vado no 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 devi continuare a seguire il tiro la parata per fortuna e qui ancora il miracolo mamma mia guardate come si allungano palla no vabbè ma non è possibile madonna mia baggio per favola dai a baggio ancora lui robert dentro mette lo scatto di mattia destro mattia destro toglie la palesegna pareggio grandissimo gol pinta di mattia destro 4 pali raggiungiamo il pareggio grandissimo mattia destro pallone dentro ancora palla dentro per miolevic viene anticipato di un soppio lui per Roberto Caro spazza via palla vienas viene anticipato attenzione c'è calcio di punizione c'è Roberto Baggio punizione barriera che debia ancora dentro il pallone lam pallone dentro sulla linea poi c'è Roberto Baggio che arriva Baggio prova il tiro rimballato palla che rimane lì nulla da fare nulla da fare ragazzi nulla da fare e finisce qui 4 pali ragazzi altro pareggio Mr. X si conferma ok ragazzi spero che questo episodio vi sia piaciuto se è così commentate condividete lasciate like se non avete fatto ragazzi mia quando iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo video proseguendo con PES e con iscriviti che è Ossip S qui da Angelo83 tutto bella